Attentato nella notte a Malè, la capitale delle Maldive, l'ex presidente, attualmente guida del Parlamento, Mohamed Naschid, è rimasto ferito nell'esplosione di una bomba. Naschid, 53 anni, stava per salire sulla sua auto quando è stato travolto dal botto di una bomba rudimentale nascosta in una moto, parcheggiata nei pressi. Naschid è ferito ma non è grave, sfuggito ad un tentativo di omicidio, fa sapere l'attuale presidente delle Maldive, Ibrahim Mohamed Soli. Naschid, primo presidente democraticamente eletto nell'arcipelago nel 2008, è stato operato in una clinica privata questo venerdì mattina, rimuovendo schegge dell'ordigno dai polmoni e dal fegato. L'attentato non è ancora stato rivendicato, ma secondo il Partito Democratico delle Maldive, di cui è leader, Naschid sarebbe finito nel mirino per la sua politica anticorruzione.